Partirà a novembre a Casoli un corso di alta formazione professionale in biotecnologie agroalimentari sostenibili. Il corso viene presentato questa mattina al sindaco Massimo Tiberini. Oggi è una giornata molto pregnante e intensa. L'Università di Teramo ha accettato questa sfida di venire nel territorio e collaborare assieme a veramente delle realtà importanti sia istituzionali che di imprese territoriali. Qui a Casoli si svolgerà questo Master scuola di alta formazione che verrà da novembre fino a febbraio ospiterà 20 ragazzi coloro i quali si vorranno iscrivere e avranno anche delle borse di studio a titolo gratuito. Oltre a queste 20 borse di studio ci si potrà iscrivere e anche altri potranno iscriversi? Sì, altri si potranno iscrivere anche perché il corso è veramente importante con delle personalità che svolgeranno questo corso persone preparate, capaci e che oggi avremo anche modo di ascoltare in questo interessantissimo convegno, in questa interessantissima presentazione. Ecco, ma ci sarà anche la presentazione del premio Sergio Di Luca intitolato al compianto sindaco? Assolutamente sì, non a caso c'è la presentazione di questo premio perché non nasce da oggi la realizzazione sia del corso di alta formazione che il convegno che ci sarà nel pomeriggio che doveva essere fatto già negli anni passati ma nasce proprio da quello che assieme a Sergio abbiamo fatto e vogliamo continuare a portare avanti. È una volontà ben precisa, non solo la mia, ma anche di tante persone che non appaiono, non si vedono, però collaborano intensamente e hanno sempre collaborato nelle varie attività che con onestà e sincerità abbiamo portato avanti. Ringrazio anche l'intero Consiglio Comunale che è ben predisposto nel fare questo premio e nel realizzarlo qui nel territorio di Casoli che va ad integrarsi con il corso perché poi verrà consegnato al termine del corso di formazione. L'università dunque che va nel territorio, Dino Mastro Cola che è magnifico rettore dell'Università di Teramo che promuove questo corso. Sì, l'università non può non andare nel territorio perché dal territorio deve trarre poi la linfa vitale anche per l'offerta formativa. Questo è un esempio di corso che ovviamente non è un corso di laurea ma è un corso di formazione per formare ragazzi nel settore delle biotecnologie, delle biotecnologie agroalimentari in modo tale da mettere insieme percorsi formativi legati all'innovazione recuperando ovviamente la tradizione. Dicevo prima che l'università ha bisogno del territorio e penso che anche i territori hanno bisogno delle proprie università e devo dire che stiamo facendo un lavoro non solo come Università di Teramo ma come sistema universitario abruzzese quindi con le quattro università abruzzese e penso che questa sia la prospettiva futura, un'interazione sempre più stretta con il territorio ovviamente con le esigenze economiche e formative dello stesso.